E' di circa un 30% in più rispetto allo scorso anno, allo stesso periodo di agosto dello scorso anno, l'introito di somme nelle casse comunali dovute al turismo. Quest'anno, fortunatamente, grazie anche all'apertura dei musei nazionali sotto Ferragosso, Chieti ha visto davvero dei numeri importanti che derivano dal turismo. Sì, sono molto soddisfatto del lavoro corposo che ho messo in campo e abbiamo messo in campo come assessorato alla cultura e al turismo in questi mesi passati, che hanno dato oggi questi frutti significativi grazie a una collaborazione e un dialogo costante con la direzione regionale dei musei. E quindi voglio ringraziare la direttrice Federica Zalabra perché grazie a una convenzione che abbiamo ostilato abbiamo consentito di disporre del personale per settore di reddito di cittadinanza, le cosiddette unità PUC, che sono andati in ausilio al poco ridotto personale museale oggi disponibile tra le due strutture nazionali a Chieti. Grazie a questo ausilio siamo riusciti a potenziare le aperture, soprattutto nel fine settimana dove mattina e pomeriggio, venerdì, sabato e domenica, i musei nazionali sono stati aperti, oltre il mercoledì mattina dedicato alle viste organizzate e guidate. E questo, soprattutto con l'apertura di Ferragosto, ha dato concreti benefici sulle strutture ricettive, sul commercio cittadino e soprattutto sulle presenze che hanno generato questo maggior gettito di tassa di soggiorno per un potenziamento dei servizi legati al turismo. C'è stato turismo proveniente dall'Italia ma tanto soprattutto dall'estero? Sì, tanti turisti anche dall'estero, gruppi di chiaramente turisti che hanno organizzato delle visite guidate. Siamo molto soddisfatti perché Chieti deve ripartire dalla cultura e dal turismo perché è un patrimonio immenso. Cosa bolla in pentola per la stagione invernale? Qualche anticipazione la possiamo dare? Sì, per la stagione invernale la volontà è sempre quella di puntare a questo turismo culturale anche con il progetto 3. Devo dire che sta avendo un ottimo riscontro il progetto con partecipato e patrocinato dall'amministrazione portato avanti da Confese Ercenti, progetto Teatri Vive Emozionando, con un abbinamento di visite legate al turismo culturale e al turismo religioso ma anche alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della città e della nostra regione.